Domenica 23 agosto 2015, giornata di apertura del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi, è stata consacrata a una nuova pastora, Eleonora Natoli. Dopo la formazione alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, ha prestato servizio nelle chiese di Forano, di Trapani e Marsala e di Palermo. Le abbiamo chiesto come ha vissuto la sua consacrazione e quali sono le sfide del Ministero Pastorale oggi. Sono nata cattolica come il 99,5% degli italiani, un cattolicesimo non praticato perché in una famiglia totalmente distante dalla Chiesa e dalla fede. Però un'educazione, comunque un assorbimento di una cultura cristiana che mi interessava. E in un momento un po' particolare della mia vita, probabilmente di ricerca, di non so neanch'io che cosa, la grazia del Signore mi è venuta incontro e mi ha trascinata. È successo assolutamente questo. Per cui la grazia che giustifica, in un certo senso, prima ancora di conoscerla per studio, per adesione alla teologia protestante, io l'ho vissuta nella mia vita. E per questo ho voluto poi razionalizzare, approfondire attraverso lo studio, questa esperienza che avevo vissuto nella mia carne di donna nel mondo, donna agnostica all'epoca. E certo mi sono ritrovata più in una teologia protestante che in una teologia di acquisizione della grazia per merito, che è quella prettamente, diciamo, cattolica, cattolico-romana. E poi c'era il secondo fatto che ricevendo questo dono della fede, diciamo, immeritatamente e diciamo pure in maniera sorprendente, io ho sentito contemporaneamente la responsabilità di restituire questo dono nella forma a me più congeniale, che era quella dell'accompagnamento delle persone, quindi un ministero pastorale, per come lo intendo io, che è soprattutto in forma di accompagnamento. E la Chiesa Cattolica relega le donne nel ruolo ancillare, quindi anche lì uno spazio di azione mi era totalmente negato. Ed eccomi in Chiesa metodista. La crisi vocazionale caratterizza sicuramente i timori degli ultimi anni nelle Chiese metodiste valdesi d'Italia. La crisi vocazionale corrisponde a una disaffezione nei confronti della Chiesa di appartenenza. Questo accade anche nella Chiesa Cattolica, è meno evidente perché i numeri sono enormemente più alti, ma c'è crisi vocazionale e disaffezione dei credenti nei confronti proprio dell'istituzione Chiesa. Quindi affrontare forse un mestiere che rappresenta una Chiesa, anche se vissuta nel senso del sacerdozio universale, cioè dove tutti siamo in rapporto diretto con Dio, avendo tutti la responsabilità di agire in questa Chiesa verso un bene comune da suddividere tra fratelli e sorelle. Le nostre Chiese non sono rappresentate dal pastore, ma dall'opera di tutti i credenti. Ecco, anche se c'è questa diversa concezione di Chiesa, però la Chiesa resta un'istituzione. In questo momento di società liquida, che è una vecchia definizione ormai di Bauman, ma tuttora valida, forse entrare a far parte di qualcosa di così rigido e che ti caratterizza in maniera così definitiva, in fondo, fa un po' fatica a tanta gente. Si preferisce un po' un senso religioso, una spiritualità fai-da-te, in cui puoi cercare un connubio fra quello che ti piace del buddismo, quello che ti interessa del cristianesimo, magari in vista più di un'etica che di una adesione alla dottrina, metterle insieme e vivere per conto tuo, a casa tua, privatamente, il tuo sentimento di fede. Credo che forse vada fatto capire, divulgare un pochino di più, che la nostra Chiesa, prima che un'istituzione, è una forma di legame fraterno fra fratelli e sorelle. Noi ci facciamo conoscere molto poco all'esterno e siamo conosciuti per l'otto per mille, ma lì è solo l'aspetto etico di rapporto con la società, è l'aspetto etico della nostra Chiesa che è all'avanguardia, ovviamente, nel senso di un dialogo costante con la modernità rispetto alla Chiesa cattolica. Questo è molto apprezzato, ma la nostra spiritualità non è conosciuta. Il pastorato presenta anche all'interno delle nostre comunità per come è strutturato ora delle difficoltà, cioè si è di fronte a una vita itinerante che non tutti vogliono e possono affrontare. Questi sono gli aspetti pratici, ma vanno tenuti presenti. Un tempo c'era la classica famiglia pastorale, la moglie seguiva il marito negli spostamenti, i figli pure senza creare problemi, la moglie non aveva un suo proprio lavoro, ma seguiva la scuola domenicale, si occupava della scuola domenicale. Adesso i tempi sono cambiati, la moglie ha una sua professione, parlo dello standard familiare, ci sono pastori single, ci sono pastore donne, che comunque hanno un marito che magari ha una sua professione, per cui questo fatto di doversi spostare probabilmente crea un problema. E poi c'è, secondo me, anche una vita comunitaria che viene un po' a mancare e che invece in tempi passati, quando le nostre chiese erano un pochino più vivaci, forse più numerose, manteneva, sosteneva, ricambiava i doni che il pastore metteva a disposizione della chiesa. Adesso i pastori sono un pochino più isolati, questo crea stress psicologico. Io ho fatto una tesi, l'ultima tesi, la tesi coinquennale, sulla vocazione in ambito valdese, metodista e battista, e ho riscontrato l'esigenza di avere da parte dei pastori una forma di valvola di sfogo, cioè dei colloqui magari o con un collega o con uno psicologo, perché i pastori sono diventati degli psicologi gratis. Quindi accumulano molto, ma poi non trovano nella comunità, anche un po' per il loro ruolo di ascoltatori principalmente, la possibilità di scaricare, insomma, quello che accolgono come stress. Anche gli psicologi hanno un supervisore in tutta la loro carriera che può fare da valvola di sfogo, i pastori non ce l'hanno. Ecco, forse andrebbero riviste alcune piccole cose pratiche proprio del Ministero Pastorale, questo potrebbe facilitare magari un maggiore desiderio da parte dei giovani di entrare in questo mestiere, chiamiamolo così, un mestiere che ha degli aspetti bellissimi, entusiasmanti, anche gratificanti, però è faticoso. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS